esploratori ben ritrovati e benvenuti in un nuovo video ciao si nuovo video ed ultimo episodio su questa ista 360 x3 in origine erano previsti solo due video perché di base il nostro canale nasce per portare tour viaggi ma quattro episodi sono stati indispensabili per portare una panoramica minima si sempre con scopo ultimo di farvi risparmiare tempo e soldi in linea con l'idea per il quale è nato il canale ma richard partiamo spediti perché in questo ultimo video c'è tanto da dire si soprattutto perché poi alla fine dopo le considerazioni finali vi vogliamo spiegare bene nel dettaglio tutte le migliori impostazioni di settaggio ed esportazione sia della cam sia dall'app sia da pc tirando fuori il massimo che questa x3 può offrire in termini di qualità esatto richard ribadendo per la milionesima volta che questo non è un tutorial non è una scheda tecnica del prodotto è solamente il nostro umile punto di vista su questa x3 in relazione all'utilizzo che ne facciamo noi andiamo avanti le passiamo al menu si una volta accesa l'x3 ci troveremo nell'ultima impostazione utilizzata con questa icona deciderete se avere l'anteprima schermo della lente anteriore o della lente posteriore sul lato sinistro accediamo alla modalità galleria per vedere come già detto solo una parte dei file tornando a destra entriamo nelle modalità di registrazione per tutte le modalità il menu è strutturato allo stesso modo sotto al centro troveremo le impostazioni di risoluzione a destra troveremo quelle di esposizione clicchiamo la modalità selezionata per tornare al menu generale in alto troviamo uno switch per passare dalle funzioni 360 quelle a obiettivo singolo qua troveremo video 4k e le impostazioni fov che riguardano sintetizzando il grandangolo modalità selfie che saltiamo a piedi pari ribadendo l'inutilità dello schermo per inquadrarsi in una posizione assurda continuando passiamo al loop recording funzionalità forse utile ma non per un action cam si richard un esempio al volo la mettete in macchina magari attaccata allo specchietto registrando un loop di massimo 30 minuti per catturare il momento di un possibile incidente necessita di un power bank collegato scorrendo ancora troviamo la modalità foto a lente singola funzionalità di nuovo non action molto caotica con funzioni pull shot raw con risoluzione così e così x3 impostata al massimo umiliata dalla qualità del nostro caro smartphone scrauso veramente assurdo tutti abbiamo sempre con noi lo smartphone che senso ha con l'x3 fare foto a lente singola per poi doverci collegare comunque in certi casi lo smartphone o addirittura il pc per vederle completamente elaborate nessun senso gli smartphone di oggi fanno foto di ottima qualità e sono già pronti alla condivisione senza tutti questi sbattimenti non voglio sentire che non ha senso paragonare l'x3 che è un action cam a uno smartphone dovrebbe essere il contrario è lo smartphone che non dovrebbe arrivare alla qualità di un device progettato esclusivamente per fare foto e video sì se mi vendi una funzione foto a lente singola 36 megapixel che non c'entra niente con action cam mi aspetto che quella destinazione d'uso faccia il suo dovere finita la sezione ad obiettivo singolo andiamo nella parte del menu che gestisce tutta la modalità 360 nella funzione video potremo scegliere la risoluzione a 5.7k continuando troveremo la modalità 360 hdr per farla corta dovrebbe migliorare la qualità in condizioni di molta luce e contrasti tenete conto che aumenterà il peso del file ed il surriscaldamento della cam sì le in fase di esportazione tutta questa differenza di qualità noi non l'abbiamo vista andiamo avanti e passiamo al timelapse e qua tocca fare una piccola parentesi bisogna capire cosa sono gli fps sicuramente lo sanno quasi tutti ma noi ci divulgiamo anche a quella piccolissima parte che magari non lo sa un video non è altro che una serie di foto in sequenza fps significa fotogrammi per secondo quindi ad esempio 4k 60 fps significa 4k la dimensione ovvero 3840 x 2160 e i 60 fps significano 60 foto per ogni secondo più fotogrammi per secondo significa più fluidità sì noi registriamo 60 fps perché il nostro obiettivo è portare un video molto realistico non un effetto cinema che può dare un 25 fps quando parliamo di timelapse molti pensano ad un'accelerazione di questo video invece si allunga il tempo tra un fotogramma e l'altro dando proprio questo effetto il termine tecnico a intervallo ragazzi non ci frantumate gli zebedei nei commenti perché la sintesi non è super tecnica come sempre a noi interessa far passare il concetto sì per farvi capire che questa ista è stata progettata per fare timelapse in 8k funzionalità di certo non action quindi quando apro il portafoglio cacciando bei soldi per comprare un prodotto che si vanta di fare timelapse a 8k con impostazioni specifiche di intervallo mi aspetto che il risultato sia migliore di uno smartphone sì vi lasciamo proprio qualche comparazione il timelapse funziona visivamente quando l'inquadratura è fissa o al limite con un minimo di movimento per dare risalto a parti in movimento in relazioni a parti fisse in più va aggiunto che uno smartphone riesce a portare un timelapse di più di due ore con l'X3 dovrete per forza comprare anche un powerbank per avere più di due ore di continuità continuità per modo di dire perché abbiamo visto che fa clip massime di 30 minuti la vendita di un prodotto con riferimenti univoci non può essere alterato da scusanti sì questa X3 è un controsenso infinito vuole vendersi ad un mercato ampio non solo action anzi all'80% con funzionalità di utilizzo proprio al di fuori della definizione di action cam ma andiamo avanti passiamo al time shift che può sembrare simile al timelapse qual è la differenza richard sintetizzando il timelapse toglie dei fotogrammi facendo degli intervalli di registrazione con cam fissa su un cavalletto il time shift invece può essere registrato anche in movimento ad esempio su un auto non ha intervalli regolabili ma si può decidere poi la velocità in post altra funzione per nulla action che non ha nessun senso perché con qualsiasi programma di editing sia su smartphone che da pc si può aumentare la velocità mantenendo di base una migliore qualità del video passiamo al bullet time questa può essere una funzione interessante dovrete acquistare un accessorio a parte in questo caso vi mostriamo app atomica il nostro wrestler di famiglia che ci ha fatto anche da inviato speciale per il tour di los angeles sì richard ma anche qua comunque emergono le criticità della cam il bullet time è accettabile con luci perfette accettando i compromessi di qualità e di stitching delle lenti loop recording 360 stessa modalità che abbiamo visto a lente singola ma in questo caso con doppia lente continuiamo con la funzione starlapse sì perché anche la funzione starlapse è fatta proprio per l'action cam infatti mentre ti fai il giro in moto o sullo skate fai una bella ripresa di 12 ore alle stelle ovvio ragazzi saltiamo proprio del tutto questa inutile funzione per un dispositivo con questo sensore caratteristiche non ha veramente proprio nessun senso senza contare che ci vorrà un grosso power bank per far sì che registri tutta la notte foto in serie no comment andiamo a 20 va intervallata no comment ma saremo strani noi le passiamo alle foto hdr in teoria dovremmo avere una maggiore qualità con una gamma dinamica migliore ed anche un controluce migliore di fatto scaricando i file dello stesso identico soggetto in hdr e non l'unica cosa che cambia è il peso giudicate voi anche in questo caso passiamo all'ultima funzionalità le foto a 360 gradi a 72 megapixel qua invece un senso potrebbe averlo e dico potrebbe quando abbiamo iniziato a vedere i primi video e foto a 360 gradi l'evoluzione tecnologica ci ha piacevolmente sorpresi i primi video e foto che giravano dagli influencer sponsorizzati promuovevano un prodotto ad alta efficienza video e foto 360 gradi stupendi senza rumore sia di giorno che di notte poteva essere la svolta soprattutto per il contenuto principale di questo canale sì ragazzi immaginate ad esempio il nostro tour viaggio di firenze girato in 360 siete a casa vi infilate un visore e bam siete nel video in viaggio assieme a noi ma anche per i vostri viaggi pensate che bello fare foto e video alle maldive ed una volta tornati a casa vi mettete in sala col visore immergendovi in un nuovo concetto di rivedere foto e video della vacanza certo ma c'è un ma se un deficiente come me ha pensato subito ad un visore istra 360 matrix by richard com'è possibile che a nessuno del brand sia venuto in mente di mettere in commercio un visore cosa succederebbe con un visore istra 360 da 5 6 700 euro facciamo un esempio pratico guardate bene cosa sta per succedere apriamo una foto al massimo della qualità 72 megapixel dal pc per attivare il purshot una sorta di intelligenza artificiale che sistema la foto sì questa è la differenza di qualità di acquisizione e modifica purshot voi vi infilate il visore e vi trovate dentro ad una realtà a 360 gradi di questa qualità nel 2024 lasciamo perdere il visore fare una foto a 360 gradi ha senso nei nostri video non inseriamo mai questa tipologia di foto principalmente per la pessima qualità in più la distorsione del grandangolo invece di rendere la profondità di campo da un senso di oppressione quindi questa lista 360 che 360 è abbiamo visto che la modalità foto a 360 è questa ma spendereste così tanto per portare una foto a 360 sui social no ile ma la gente la prende per fare i video a 360 no richard i video che vediamo ovunque non sono a 360 non sono video dove l'utente mentre li guarda può girare l'inquadratura a 360 gradi ma video statici con una ripresa fissa quindi se non la compro per fare foto a 360 gradi da mettere sui social e non la compro per fare video a 360 per far sì che chi guarda possa girare l'inquadratura come vuole cosa la prendo a fare una camma a 360 per fare lo starlops la tacchi alla batteria del camion e la lasci lì un paio di giorni ma è a deggani sempre proprio più per niente come fa la gente a difenderla ma richard la gente la compra senza pretendere una qualità rapportata alla tecnologia attuale per quale motivo ista dovrebbe abbassare il prezzo o alzare la qualità diminuendo i ricavati se alla gente sta bene così è di base lo stesso identico discorso che abbiamo su iphone ci sono diverse criticità come ad esempio la pessima qualità di ricezione che è un fattore primario per un telefono ma alle persone non interessa se il telefono ha poco segnale vogliono le nuove emoji a forma di cacca quello è importante non ha proprio senso portiamo l'esempio del drone le immagini del drone fanno schifo perché il drone è un drone non va comparato con uno smartphone ma di cosa stiamo parlando droni da 300 euro fanno riprese accettabili il film x8 mini ne è un esempio ottima anche l'esposizione il drone nasce per essere pilotato le immagini sono una parte secondaria la x3 nasce esclusivamente per fare riprese questa x3 è una contraddizione continua dovrebbe essere versatile e rapida all'utilizzo invece ogni funzione che abbiamo visto ha una valanga di parametri da impostare action manco per il ca io un action cam non voglio doverla impostare ci sta con la nostra sony a7 perché la fotografia è una passione ma con un action cam voglio accenderla e premere rec basta sì poi impostazioni su un dispositivo con questo sensore portiamo un esempio pratico facciamo un video a 360 usando entrambe le lenti oltre a pensare bene a cosa inquadrare per evitare lo stitching dobbiamo anche impostare alcuni parametri sì nello specifico questi ripresa a 360 5.7k 30 fps andiamo a destra per entrare nella schermata di impostazioni prima di tutto per tirarci fuori qualcosa di buono bisogna andare in manuale anche perché l'automatico non è automatico ha comunque dei parametri da settare in linea con i mille controsensi di questa action cam il discorso automatico manuale rende meglio con un esempio in notturno o con poca luce questa è una ripresa fatta con una discreta illuminazione con impostazioni automatiche volendo passare al manuale per chi non ha competenze fotografiche la logica è di settare i vari parametri guardando lo schermo fino a quando l'immagine vi sembra buona la logica è quella ma se impostiamo la ripresa affidandoci allo schermo quello che viene fuori è questo come già detto schermo inutile non riproduce tutti i file e non rispecchia quello che registri invece settando i parametri manuale come poi vi spiegheremo si riesce a tirar fuori un'immagine di questo tipo tornando alla modalità automatica diciamo che non lavora bene e non riesce a mantenere dei rapporti di calcolo fotografico come la frazione tra fps ed otturatore si richard ma così è troppo tecnico semplificando se mettete in automatico una ripresa vi potrà venire bene e l'altra chissà perché questa x3 non gestisce sempre bene il cambio di esposizione della luce ragazzi non preoccupatevi ora facciamo una panoramica a fine video vi daremo le nostre migliori impostazioni che abbiamo salvato nei preset mettendole a monitor e dandovi il tempo di copiarle passiamo alle impostazioni vere e proprie prima di tutto troveremo il profilo colore standard log e vivido il vivido satura parecchio i colori ad esempio il cielo diventa di un blu pastello terribile modalità che non vi permette migliorie di color in post il log nelle apparecchiature serie è la scelta migliore per una color correction qua invece è solo effetto nebbia in valpadana sì log pro res 8k 72 megapixel sono tutti paroloni che su questo dispositivo non hanno nessun senso se non a invogliare l'acquisto sì l'è verissimo nel nostro caso impostiamo su standard per avere più margine di color dovendo affiancare le immagini all'iphone ed alla sony a7 subito dopo troviamo lo shutter speed con una marea di settaggi non è altro che la velocità dell'otturatore cioè il tempo di esposizione del sensore alla luce poi troviamo gli iso che sono la quantità di luce che arriva sul sensore anch'essi con un'altra valanga di variabili da settare subito dopo abbiamo levi che è la combinazione tra diaframma e tempo di scatto dopodiché troveremo un'altra vagonata di impostazioni relative al bilanciamento del bianco ed infine avremo la possibilità di separare o meno l'esposizione delle due lenti in teoria utile ma di fatto un'altra operazione controproducente ricapitolando per usare questa x3 devo scegliere bene cosa inquadrare per evitare lo stitching impostare in maniera sensata tutti i vari parametri ma senza usare lo schermo come riferimento in più dovrete tenere conto anche della posizione del sole perché se il sole sarà distribuito in maniera uniforme tra la lente anteriore e quella posteriore l'esposizione risulterà buona riducendo notevolmente lo stitching si se invece ad esempio il sole si troverà dietro la lente posteriore in questo caso la lente anteriore sarà in ombra e di conseguenza lo stitching sarà molto più evidente purtroppo non è finita qui le impostazioni che avrete settato andranno cambiate di continuo in base all'esposizione come vi avevamo accennato nei video precedenti se ad esempio siete fuori dal garage ed entrate dentro fuori avrete un settaggio e una buona esposizione che non andrà bene all'interno stesso discorso al contrario se avrete settato la cam per l'esposizione interna nel momento in cui uscirete dovrete cambiare le impostazioni o vi ritroverete con l'immagine completamente bruciata sia ad esempio una ripresa continua all'interno del ristorante nel momento in cui esco di fuori se non voglio avere tutto bruciato devo fermare la registrazione risettare i parametri e ricominciare la ripresa da fuori dalla porta del ristorante purtroppo potremo avere anche esposizioni diverse nella stessa clip e qua non ci si può fare niente un esempio il video che abbiamo fatto relativo all'interruzione prima del trentesimo minuto si in basso a sinistra l'esposizione passabile tendente all'oscuro creando parecchio rumore invece in alto a destra risulta tutto completamente bruciato questa è l'X3 e non c'entra che è a 360 perché questa è una ripresa a lente singola si ripresa che un drone a lente singola da 300 euro ha fatto 20 volte meglio poi dipende comunque sempre dall'utilizzo che ognuno di noi ne vuole fare se voi prendete l'X3 per metterla su un palo davanti al pollaio per vedere se le galline fanno le uova non vi interesserà se l'esposizione è sbagliata o se lo stitching è evidente o se la qualità è bassa per il nostro utilizzo invece dobbiamo portare questa X3 al massimo delle sue potenzialità e oltre tramite programmi di post produzione per avvicinarci il più possibile alle riprese degli altri dispositivi per portare una sequenza grafica uniforme un'altra incoerenza di questa X3 è che un action cam dovrebbe essere fatta per un utilizzo hard voglio poterla tirare contro un muro che non deve succedere nulla invece questa X3 ancora una volta si contraddice in tutto è delicatissima questo è un altro punto che vi ritroverete ad affrontare solamente quando lo avrete tra le mani letteralmente sarete stressati a darla nelle mani ad un amico per fargliela vedere basta che vi cada una sola volta e ciao ci siamo cascati anche noi buttando altri soldi per il coprilente le riprese sono ancora peggio chiaramente una doppia lente di plastica non può che peggiorare la già scarsa qualità si vedrete video sponsorizzati con X3 attaccate a mountain bike skate snowboard quando ve la regalano poco importa se si rompe provate voi a spenderci tanto per poi attaccarla alla bici per andare a saltare nel bosco si le troppo delicata ma andiamo avanti passiamo ad un punto che secondo noi è fondamentale per valutarne l'acquisto la cosa che ci sentiamo dire più spesso è che siamo noi a non saperla usare il punto importantissimo da chiarire secondo noi è la compressione della reale qualità di questa cam spesso si genera confusione perché guardando certi video le riprese di questa X3 sembrano ottime guardando ad esempio invece il nostro video le riprese sembrano pessime si queste differenze creano confusione quindi partiamo subito con un esempio chiaro guardiamo questo video diciamo dal telefono le riprese sono bellissime questo è un video di un nostro compaesano riminese si non male allora registra bene questa X3 no perché la riproduzione di questo video è a 360 pixel una qualità che usava mia nonna maile facciamo l'esempio diretto che è più facile da capire prendiamo un video di iphone 4k durata 2 minuti e 10 secondi peso 866 megabyte avvio la registrazione dello schermo del pc con obs faccio partire il filmato pieno schermo e lo salvo ha senso no nessuno perché la qualità della registrazione dello schermo non in densità di pixel ma spalmata distrugge la qualità del file originale in 4k ok adesso facciamo il contrario prendiamo una clip di insta la portiamo in studio e la esportiamo alla massima qualità quindi 5.7k pro res e punto perché non c'è possibilità di settare altri parametri quindi non siamo noi a non saperla usare a questo punto abbiamo un file di un minuto e 26 secondi che pesa 13,28 gigabyte facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto prima ovvero avviamo obs registrando lo schermo e avviamo il video ha senso vediamo ile abbiamo trasformato un video da 5.7k con un peso di 13,28 gigabyte in un video a 1080 con peso di 60,8 megabyte quindi andiamo in da vinci la traccia gialla è quella di insta a 5.7k con peso di 13 gigabyte quella blu è la registrazione dello schermo di obs a 1080 con peso 60 megabyte a questo punto esportiamo la traccia blu in ultra 4k ovvero 3840 x 2160 andiamo sul nostro canale di prova dove facciamo i test e carichiamo il video ragazzi caricheremo comunque anche su questo canale l'esportazione finita in fake 4k si buttateci un occhio una persona che guarda questo video con la possibilità di arrivare a 4k secondo voi che idea si fa delle riprese di questa x3 e tenete conto che abbiamo solamente fatto la registrazione dello schermo senza nessuna correzione di colore rumore o miglioramento il punto è che la qualità percepita dalla compressione del caricamento non ha niente a che fare con la qualità oggettiva le magagne vengono fuori quando il 4k è vero caricando i nostri contenuti girati in 4k veri ed affiancandoci le clip di insta fatte al massimo della qualità con pesi assurdi avremo un reale confronto della qualità video ragazzi adesso voi state vedendo dei file compressi caricati in rete la differenza vera che vediamo noi prima del caricamento su youtube qua in studio è mostruosa e quindi cosa dovremmo fare abbassare la qualità di tutto il girato di attrezzature da quasi 10.000 euro per far sì che insta risulti migliore di quello che è quindi fate attenzione ai video che vedete in rete è per questo che alcuni video vi sembrano buoni ed altri meno ma andiamo avanti passiamo ai parametri di impostazione della x3 vi abbiamo mostrato tutto il menu per darvi un'idea completa ma in realtà l'unica sezione che ha senso usare è la modalità 360 5.7k 30 fps sì la modalità lente singola e tutte le altre pataccate sono inutili anche perché l'hdr si trova solo nella modalità 360 dopo aver fatto tutti i test possibili e immaginabili ci siamo resi conto che la qualità migliore si fa per dire è quella 5.7k 30 fps per qualsiasi tipo di ripresa dobbiate fare sì inutile fare una ripresa in 4k lente singola quando potrete ritagliare poi la stessa porzione facendo la registrazione in 360 a 5.7k ad una qualità migliore prima di tutto entriamo nel menu generale dell'x3 tirando giù la tendina dall'alto ragazzi non stiamo a spiegarvi tutte le icone sono ovvie le uniche impostazioni degne di nota sono tre voci specifiche e la calibrazione del giroscopio per mantenere sempre l'orizzonte andiamo nella rotella in basso a destra e spostiamoci nelle voci che ci interessano anti sfarfallio auto bitrate video alta e nitidezza medio giusto per continuare con la coerenza in coerenza di questa x3 in qualsiasi altro dispositivo il valore massimo indica la massima qualità invece in questo parametro non possiamo spingerci oltre il medio altrimenti la qualità finale peggiorerà notevolmente torniamo indietro alla modalità 5.7k andiamo a destra e selezioniamo manuale partiamo dal profilo colore si le impostiamo su standard lo shutter speed 1 640 gli iso 125 di base non vanno mai portati oltre i 400 anche se lei arriva a 3200 più luce significa anche più rumore ma anche qua non è una regola fissa perché scalando lo shutter speed gli iso si possono alzare insomma con questa x3 dovrete essere fotografi esperti professionisti con una macchina fotografica giocattolo trovata nelle patatine le vie appare solo con lo shutter speed e iso in automatico quindi per questo settaggio non c'è il vb non ha un parametro fisso tenetelo di base a 5000k salendo si andrà a dare una temperatura più calda settaggio ideale ad esempio per un tramonto diminuendolo andremo a dare risalto a colori più freddi un viale di alberi per esempio l'ultimo parametro lasciatelo off perché divide l'esposizione delle lenti abbassando la luce drasticamente ora salviamo nei preset per un rapido richiamo questo è un settaggio di base per il giorno con luminosità ottima con questa x3 non ci sono vere e proprie impostazioni standard in poche parole dovrete andare sempre a smanettare i settaggi in base alla situazione e luminosità è chiaro che potrete scegliere anche l'automatico che comunque ha dei valori da impostare dipende sempre da che tipo di risultato finale vorrete ottenere tenete conto che tutte le riprese che avete visto nella serie sono state registrate in automatico tutte tranne la barca e la camminata notturna che sono in manuale settata la cam passiamo alle impostazioni di esportazione le abbiamo provate tutte incrociando tutte le variabili non c'è un'unica univoca opzione ma anche qua dovrete interpretare la scena che avrete ripreso la facciamo super corta se la ripresa inquadra un cielo con qualche dettaglio abbastanza distante dalla cam bisogna esportare con una risoluzione medio bassa quindi per prima cosa impostiamo la risoluzione quella che si avvicina di più al 5.7k della cam ovvero 5.760 x 3.240 per quanto riguarda il bitrate dovrete andare nelle informazioni del video ed impostarlo alla metà di quanto letto nelle proprietà per quanto riguarda invece il codec anche in questo caso dovrete valutare la scena in soldoni se vorrete dettagli della barca per esempio dovrete aumentare la qualità usando l'h265 o il proress però inevitabilmente avrete un cielo a quadretti con molto rumore passando all'app in linea generale il discorso è uguale avendo in più dei preset per i social più comuni in più una tira polli con il warp e lo skyline che per adesso funzionano come questa x3 24 minuti per problemi al server di ista per non riuscire nemmeno a finire la clip considerate inoltre che questi effetti potrete farli con riprese di qualsiasi dispositivo su centinaia di pagine online di intelligenza artificiale in conclusione sperando che avrete seguito il nostro consiglio di impostare al massimo la risoluzione di questi video e cercando di vederli su una tv 4k o su un pc per vedere le reali differenze che la visione sullo smartphone minimizzerebbe ribadendo per la milionesima volta che questa non è una recensione o una scheda tecnica ma solo la nostra esperienza legata al nostro utilizzo si le se da una parte a noi questa x3 non fa impazzire dall'altra c'è chi l'adora nel mezzo ci sono migliaia di persone che potrebbero ritenere utile la nostra esperienza per decidere poi chiaramente con la propria testa un eventuale acquisto considerando inoltre che ci sarebbe tanto altro da dire si richard ma non possiamo fare 20 video sulla x3 abbiamo dato priorità solo alle particolarità più rilevanti poi a voglia quanto ci sarebbe da dire si le come la distanza da tenere il discorso è lungo sappiate che con questa x3 zoomare su un soggetto nel programma studio significa portare la risoluzione a quella del commodore 64 in più i problemi software abbiamo sempre dato per scontato che di base funziona bene ma non è assolutamente così per noi sarebbe stato molto più facile e conveniente parlare bene di questa x3 mettendovi parametri di settaggio che non si trovano facilmente in altri video in rete sì una marchetta ad insta e i capiscioni sarebbero stati tutti contenti però noi non siamo così fra l'altro richard dei capiscioni che hanno commentato offendendo dicendoci che siamo noi a non saperla usare in quanti ci hanno risposto quando gli abbiamo chiesto come settare la x3 e l'esportazione nessuno ile in soldoni per noi questa x3 non è al passo tecnologico con la qualità video anche a confronto con dispositivi che costano meno come droni e action cam economiche quello che ci infastidisce di più è che questa x3 viene osannata e pubblicizzata per quello che non è esatto quando ero giovincello si andava a ballare in collina riccione alla baia imperiale al peter pan al cocorico e ad un certo punto della serata ti ritrovavi talmente ubriaco che ti ricordavi poco e niente soprattutto della bellissima ragazza che ti faceva l'occhiolino e l'ultima cosa che ti ricordavi e che vi eravate solamente presentati il problema arrivava la mattina seguente quando te la ritrovavi nel letto a casa tua dandoti il buongiorno ciao richard come sei bello oggi e a quel punto avevi quel bruciore di dietro e ecco per noi questa x3 è stata così uno strano bruciore dietro dopo averci speso tanto e dimostratasi per quello che non è aneddoti di richard a parte quando per fortuna io ancora non c'ero secondo noi questa x3 può andare bene per chi va in moto in caso di caduta i 500 euro del costo dell'ista sono l'ultimo dei problemi al contrario per esempio di uno skate dove lo scivolone fa parte del gioco e 500 euro a caduta possono diventare un problema sì per un motociclista può passare usando solo l'app senza grosse pretese di qualità caricando video standard da 15 20 secondi sui social se da un lato per questo utilizzo la x3 può passare dall'altro la domanda che bisognerebbe farsi è se ne vale la pena sì vale la pena spendere 500 euro per la campi o altri soldi in accessori che non ha senso non prendere per sfruttare la x3 al massimo solo per qualche minuto di filmato per i social diteci nei commenti cosa ne pensate sì e qua ci riallacciamo al primo video con la dovuta inflazione voi spendereste 180 euro per il filetto fish del mac esploratori anche per questo video è tutto noi vi salutiamo con la speranza di rivederci prestissimo ciao ciao ciao